Un trentenne indiano è stato ritrovato senza vita nei pressi di un'azienda zootecnica situata in località Cioffi di Eboli, a pochi passi dalla strada provinciale Aversana. Il giovane è stato ritrovato in una pozza di sangue con addosso le ferite profonde provocate da una serie di coltellate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Eboli che hanno avviato le indagini del caso. Stando ai primi rilievi il giovane sarebbe stato ucciso da un connazionale che al culmine di una lite lo avrebbe accoltellato a morte.